E' lunga la strada della ripresa per Marco Talamelli, il bagnino 28enne di Fano che assieme al padre Mauro gestisce la spiaggia di Baia Metauro. Lo attendono ancora lunghi giorni di degenza in ospedale ad Ancona dove si trova ricoverato da quel tragico 9 luglio scorso dopo il pauroso schianto lungo la Flaminia nella frazione di Carrara poco dopo le 20 di sera. Marco era appena ripartito a cavallo della sua moto MW Agusta 600 dopo una breve sosta al bar Arcobaleno, ingrana la prima, poi la seconda e dopo nemmeno 100 metri dal bar un avvalamento all'asfalto gli fa perdere il controllo dell'avantreno e la moto a quel punto diventa ingovernabile. Poi la rovinosa caduta dopo la collisione con una colonnina dell'Enel, l'ambulanza e la corsa al torrette di Ancona dove affronta 8 lunghissime ore di interventi chirurgici per ridurre le molteplici fatture agli arti e al bacino. Ora dopo due settimane è sveglio ma il dolore si fa sentire, ci dice il padre Mauro che da solo ora gestisce la stagione della spiaggia e che ogni pomeriggio va ad Ancona a trovare Marco. Intanto grazie a tutti quanti, pronto soccorso, giù l'ambulanza che gli hanno salvato la vita perché aveva reciso l'arteria e quindi bravissimi quelli dell'ambulanza che fino a Ancona l'hanno portato giù e gli hanno salvato la vita appunto. Poi adesso Marco ha ripreso conoscenza, ringrazia tutti per il gran calore e la solidarietà di tutti quanti voi e ha tanto dolore perché ha fratture scomposte sia al braccio destro che alla gamba destra, anche il bacino e quindi dolore lo sente. E niente, è un percorso molto molto lungo, molto lungo, ci vuole tanta pazienza. La moto, guai a toccare la moto, ha detto non la prenderò mai più, anzi l'ho portato a conoscenza di questi ultimi incidenti, lui è stato fortunato rispetto agli ultimi casi che si sente dire. Noi la stiamo raccontando, grazie a Dio. Tanto affetto da tanta gente, questo vi ha sommerso di affetto? Tantissimo affetto da tutti quanti, non immaginavo, è una cosa veramente commovente. Grazie, grazie a tutti.